Buonasera, cambiamo argomento. Oltre 14 milioni di euro su un totale di 100 milioni a tanto ammontano le risorse destinate al Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di nuove scuole. Lo ha deciso a Roma la conferenza Stato-Regioni sul riparto dei fondi dell'Inail. Ottenere il 10% del finanziamento è un risultato da record, ha commentato l'assessore alle infrastrutture Santoro.